Sono Sester e oggi mi andrò ad ammazzare Piove, fa anche abbastanza freddo Devo fare degli allenamenti con delle salite al medio e poi una discesa tecnica La prima cosa che mi è venuta in mente è andiamo a provare questa pista di DH Qua hanno fatto i campionati italiani di DH per un paio d'anni mi sembra Quindi dovrebbe essere una pista abbastanza di livello Oggi scopriremo se è fattibile con una bici da cross country Madonna che nebbia Non si vede niente Ha iniziato a piovere veramente troppo forte E quindi ho dovuto abortire il piano e ci riproveremo un'altra volta Ok, oggi c'è il sole e sono con Jacopo Andiamo a vedere se questa pista di DH è fattibile con una cross country Per ora era bella impestata Per ora ha messa male, però cerco di dire che non l'hanno ancora aperta Vediamo Cosa? Sì, è vero Sì, ma è questa, è questa Sì, 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 questo pezzo me lo ricordo È lei, è lei Mamma mia che crateri Sì, sì, sì Sì, sì Prima giorni di giocato Sì, sì, sì Ok al massimo ci arrivavamo a guardarlo è bastante troppo ancora scendola non fio troppo a farlo non fio troppo non fio troppo adesso da qua c'è il pezzo io di solito l'ho portata lì capito adesso qua non è cazzata si scende facile poi c'è la curva al massimo mi fermo a guardarla si perchè la parte tecnica praticamente qui è fattibile poi dopo fai due S se non ricordo male c'è proprio un pezzo ma si vede io ho sceso a piedi perchè è dritto cioè in realtà basta far scorrere la bici però è roccia e basta stanza vediamo al massimo mi fermo si io ho un pezzo ok basta guardi indietro lo faccio questo è bellissimo un pallini un pallini hai qua non è difficile ma il problema è che c'è la curva e se non riesci a fermarti un po' ti sacchi capito e c'è l'altro è che fa anche un po' così è brutto perchè ti puoi far male quindi non farlo vuol dire fallire la missione ma l'hai tanto bucato no in realtà no 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 non c'è ma si dai lo faccio ma si dai basta che lo arrivi qua fermo si devi arrivare piano 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 si allora che rischio ti sei piantato nella radicione sei stato a destra ti è andata bene però dai sei stato bravo quasi chiuso no ma è solo sbagliato che sei stato a destra e lì c'è la radicione mi sembra che ci fosse tanto buco si chiama che il grandangolo non rende ma in realtà è un bel muretto facciamo stare va ci ho provato aspetta che ti vengo dietro non ci ho provato Grazie a tutti Qua è un po' rotta Qua è un po' rotta Si Però come capitale Ok abbiamo visto che è abbastanza fattibile A parte un paio di punti un po' appesi Però tutto sommato si può fare È anche abbastanza rotta ora Breve ma intenso è stato Breve ma intenso Penso che uscirà un video abbastanza corto Però abbastanza intenso Speriamo che ne assistemino Sì ora in particolare l'ultimo pezzo Che c'era addirittura l'erba Era bello rotto Pensavo peggio Mi raccomando iscrizione al canale Grazie ragazze Visto che anche lui è su YouTube Seguito Dai ci vediamo prossimamente Chissà che non faremo un video insieme Ma questo mio canale Chissà Ciao Ciao